Il calcio, emozioni, io vorrei dire alla gente no, ma anche a chi sa poco di calcio, ma che sa di tante altre cose. Io il calcio lo faccio da 37 anni, il calcio è la massima espressione dell'emozione, del trasporto emozionale, e anche il pianto, anche il pianto non è uno sfogo, il pianto è un sentimento, e quindi l'emozione va trasmessa, la devi tenere dentro e la devi saper inculcare nella mente di coloro i quali debbono rappresentare un qualcosa. Quindi l'emozione è qualcosa di bellissimo, come l'attesa. Stapartita noi l'abbiamo aspettata come il sabato del villaggio di Giacomo Leopardi, dove hai paura di quello che può accadere e quando accade è finito tutto. Adesso per me è finito, la vittoria oramai non esiste più, si pensa alla prossima, però l'attesa, ma che succede domani? Ma ce la facciamo, quella è la cosa più bella. Noi viviamo di emozioni e dobbiamo regalare le emozioni e oggi ho vinto Taranto, non ci sono altri vincitori e non ci sono sconfitti, c'è un solo vincitore, il popolo tarantino. Noi viviamo di emozioni e non ci sono sconfitti, c'è un solo vincitore, Grazie. Grazie a tutti